Quando è arrivata la bolletta di luglio, guardate un po' qua, 10.325 euro, 5 volte il mese corrispondente, il luglio 2021. Che ha pensato quando era aperto? Eh no, è stato male due ore. Quando ha aperto l'ultima bolletta dell'energia elettrica, ha sobbalzato sulla sedia il direttore della Casa Pia di Arezzo. Così, infatti, la caro energia sta portando all'ostremo anche molte residenze per anziani. Abbiamo previsto aumenti, ma quello che sta succedendo in questi mesi non era prevedibile. Il caro bolletta rischia così di mettere in ginocchio le residenze per anziani. Nell'RSA, infatti, abbassare il riscaldamento è impossibile, troppo fragili gli ospiti all'interno. Impossibile poi anche effettuare taghi o andare al risparmio, pena il benessere e il livello dell'assistenza degli anziani. Per noi ha un risvolto immediato sulla vita delle persone, non possiamo tenerli al freddo o al caldo. Il pericolo, per ora scongiurato, dunque, è quello che i costi ricadano sulle spalle delle famiglie. Stiamo cercando in tutti i modi, con il Consiglio di Amministrazione e con l'aiuto del direttore, a cercare qualche soluzione che ci stiamo veramente inventando perché vorremmo non arrivare ad aumentare le rette. L'appello accorato al Governo è quello di un sostegno concreto ed immediato. Per qualche mese dell'inizio dell'anno è stato abbassato un tipo di 4 punti percentuali l'IVA, che è stato già qualcosa, ma quando ancora già non pensavamo che fosse, quindi non lo so. Le soluzioni, le modalità, lo spettano, però qualcosa deve essere fatto perché non è così, non è possibile.